L'avvoltoio andò ai tedeschi, dei tedeschi disse no, avvoltoio vola via, avvoltoio vola via, non vogliamo mangiare più fango, odio e piombo nelle guerre, pane e case in terra altrui, non vogliamo più rubare. Bentornati alla nuova puntata delle Fritte dal Belgio e non solo, tiro la puntata Aldo dice 26 per 1. Ciao Marco. Ciao Pietro, Aldo dice 26 per 1 perché oggi la puntata è sul 25 aprile e Aldo dice 26 per 1 era la parola d'ordine cifrata del telegramma del Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia per dare l'indicazione dell'insurrezione il 25 aprile. e anche la sigla è una sigla che si chiama dove vola l'avvoltoio che è tratto da alcuni versi di Italo Calvino e che trattava di questioni partigiane tra gli altri. E allora Marco abbiamo detto che questa è una puntata dedicata al 25 aprile e direi che è una puntata che ci servirà a sfatare dei miti negativi o positivi, se qualcuno li vuol far passare per positivi, sul fascismo. Negli ultimi 30-40 anni, per tutta una serie di ragioni che adesso cercheremo di spiegare, sono diventati di dominio pubblico, vengono ripetuti a ogni piesso spinto delle falsità storiche sul fascismo che cercano di dietuncolarne, di farne vedere gli aspetti tra virgolette positivi per una parte della popolazione. E quello che ci colpisce è anche, appunto, ogni tanto ultimamente sentiamo questi commentatori sulla stampa o in televisione che parlano del pericolo del Politicolli Correct, oppure quando c'è stata la questione legata all'assassinio di George Floyd e le grandi manifestazioni, quindi anche l'attacco alle statue, tra virgolette, si diceva a quello che in America viene chiamato il cancel culture, cioè la rimozione della storia. Ora, in Italia, politicamente corretto, mi sembra l'ultimo dei problemi, perché come tu dicevi giustamente, qui persistono e sono riproposti una serie di luoghi comuni incredibili sul fascismo, sulla lotta partigiana, che fanno parte, appunto, che non c'è niente di corretto politicamente, ma soprattutto storiograficamente. Alcune pubblicazioni ultimamente stanno cercando di smontare, in un linguaggio semplice, piano, comprensibile, ma con la correttezza dell'approccio storiografico, queste falsità. E pensiamo a dei libri come quello di Filippi, Francesco Filippi, Mussolini ha fatto anche cose buone, che è la classica frase da autobus pieno nel quale sentiamo queste cose. C'è stato un periodo in cui il fascismo veniva recuperato fino alla guerra. Poi, vabbè, un poco prima, le leggi razziali. E come se i 15 anni prima delle leggi razziali fossero rose e fiori, fosse un brillante sistema. Fra le stupidaggini che si sentono spesso e volentieri sono quelle che Mussolini ci ha dato le pensioni. Le pensioni sono introdotte alla fine del 1800, nel 1895, da Crispi. Nel 1919 diventano obbligatori i versamenti, che prima erano facoltativi da parte degli imprenditori. Quindi il fascismo non ha inventato niente, semplicemente ha messo le mani da ladroni, quali fra l'altro furono, sui fondi versati dagli imprenditori per le pensioni. Poi furono le lotte operaie della fine degli anni 60, in particolar modo del 69, che ad esempio introdussero, con la legge 153, la pensione sociale. Quindi il fascismo non c'è secca a niente. Come non c'è secca a niente con la tredicesima, che viene introdotta sì dal fascismo, ma solamente per gli impiegati. Ed è poi negli anni 60 che viene introdotta per tutti. E così potremmo continuare con le bonifiche, la lotta alla mafia. Il fascismo smonta come prima cosa le leggi che abrogavano i latifondi. Quindi la base sociale e economica della mafia. Quindi sciocchezze simili. E di questo siamo pieni. Fortunatamente ci sono delle collane di storia. Adesso in particolare la terza ha fatto una collana molto interessante, dal titolo emblematico, Fact Checking, controlliamo i fatti, nelle quali sono possibili trovare dei libretti molto agili, e però con una cognizione della storiografia esistente sul tema sul fascismo. Uno dei titoli è di Carlo Greppi, si stava meglio quando si stava peggio. Un'altra delle classiche frasi da luogo comune. Il libro di Chiara Colombini, anche i partigiani però, un'altra cosa sulla quale torneremo dopo, perché queste falsità sul fascismo, Vespa ultimamente, Bruno Lorrido, Bruno Vespa ha tirato fuori un libro pieno di queste stupidaggini, vanno di pari passo con le falsità sulla lotta partigiana e la resistenza. Eh sì, infatti Marco, direi che c'è un punto importante che bisogna introdurre adesso, che è la questione della centralità della vittima, leggere i fatti storici nella centralità delle vittime, è quella cosa che, soprattutto dagli anni 90 in poi, insomma è la questione dell'anti-antifascismo, come se l'antifascismo venisse relegato a interesse di roba di poco, o di lotte tra fazioni politiche ormai residuali nel panorama politico italiano e mondiale. Un derby, un derby come dice uno che è stato anche, purtroppo, ministro degli interni. Esatto, è bene non pronunciarlo. Quindi, Marco, su sta fatto della centralità delle vittime, c'è una spiegazione, c'è un malcostume, no? A partire dagli anni 90 c'è questa centralità della vittima e della testimonianza. Tutto si muove, un poco comincia intorno alla Shoah, giustamente, no? però poi quello che prende, mentre nella Shoah è sempre chiaro il contesto in cui si trovano purtroppo le vittime di questo terribile avvenimento, che non è venuto così dal cielo perché ci abbiamo avuto sfortuna, ma è la strategia politica del nazismo e dei suoi alleati, tra cui il fascismo, diventa questa ricostruzione della storia esclusivamente centrata sulla vicenda della vittima, che in qualche modo viene completamente decontestualizzata. allora la produzione dei libri di Panza, libri che sono stati spacciati come lavori di storia, quando sono chiaramente romanzi, ma lo stesso Panza, da questo punto di vista intervistato, aveva detto no, 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 ma io mica sto parlando dei fatti di storia, io sto, ho romanzato alcuni avvenimenti. Allora che succede? Si centra l'attenzione sulle drammatiche vicende di una vittima e si perde tutto il contesto. Che questa vittima fosse, ed è il caso per esempio, ritorna moltissimo nelle storie sul confine orientale, quello che poi, e allora le foibe, un altro libro della collana fact-checking di Gobetti, molto interessante, e la vittima non si dice, si perde completamente il fatto se questa vittima fosse stata un dirigente, una spia, un militante fascista, tutto scompare, no? E allora un po' il discorso, il rispetto di tutte le vittime, che è più che giustificato, però certo non si può dimenticare che alcune vittime sono cadute lottando per la libertà, altre vittime sono cadute lottando per la schiavitù, per il nazismo, per il fascismo, per l'antisemitismo, quindi un po' di differenza da questo punto, è sempre il caso di farla. E quindi non solo è il caso di farlo, ma è il caso di ricordarlo, perché soprattutto nei periodi caldi, di fine gennaio, fine febbraio, il 25 aprile, tutte le giornate di ricordo e della memoria, negli ultimi decenni, poi hanno questo problema, questa centralità della vittima, che non si ricorda quello che aveva fatto, rimane vittima, e poi chiaramente, questo lo diciamo, c'è anche un disegno politico, perché se tu togli e non fai conoscere la storia della vittima, poi alla fine la responsabilità cade su questi cattivi partigiani, che hanno ucciso questa vittima, e quindi c'è un approccio politico preciso su questo tipo di strategie. Ed è una distruzione di vere e proprie falsità. Io in quanto romano, per me è particolarmente importante la vicenda delle fosse ardiatine. Ancora oggi esiste questo falso mito dei partigiani che non si sono consegnati a fronte di un comunicato dei nazisti che diceva faremo una rappresaglia se i colpevoli dell'attentato di via Rasella non si presentano. Quando i documenti confermano quello che si è sempre detto, cioè che il famoso comunicato sulla rappresaglia viene pubblicato e finisce l'ordine già stato eseguito. Non c'è stato mai un comunicato prima, a parte il fatto che i partigiani non potevano consegnarsi, finisce la guerra partigiana, ma anche fosse non è mai esistito. Però questa leggenda, leggenda nera nel vero senso della parola, continua a alleggiare e ogni tanto è ripresentata come fossero i partigiani i responsabili delle rappresaglie dei nazisti e dei fascisti. Cioè se non facevano niente, se facevano i cazzi loro, non succedeva niente. C'è una guerra! Tra l'altro una guerra con un occupante dentro la città, quindi non è che parliamo di una situazione diciamo normale, ecco, rispetto a quello che potremmo vivere oggi. Allora Marco, direi che possiamo concludere questa puntata ricordando intanto una cosa fondamentale. Storia e memoria sono cose diverse, fondamentalmente. L'altra cosa importantissima, il 25 aprile è una data fondativa e fondamentale della storia italiana. Il 25 aprile rappresenta lo spartiacque tra la dittatura, la guerra e la democrazia. Questa è una cosa che non dobbiamo dimenticare perché con tutti i discorsi che si sentono poi a un certo punto a qualcuno viene in mente che il 25 aprile è troppo divisivo. Esatto. Deve essere... Divisivo fra chi? Fra chi stava dalla parte dei fascisti e dei nazisti e chi lottava per la libertà. Esatto. Questa è una bella divisione, io la ho caro a cuore. Esatto. Essendo il 25 aprile l'antifascismo uno dei piloni portanti della democrazia italiana deve continuare da questo punto di vista ad essere divisivo e altrimenti andremo da un'altra parte. Diciamo che negli ultimi anni questo tema non è così ammuffito. Se diamo uno sguardo a alcune forze politiche presenti in Europa forse il tema dell'antifascismo che inevitabilmente è anche antirazzismo non è così secondario. E quindi noi vi ringraziamo per aver visto questa puntata delle Fritte. Girate ai vostri amici che hanno le pensioni che ha dato il duce eccetera per aiutarci a sfatare questi miti e vediamo appuntamento alla prossima settimana. A presto. Ciao ciao.